il detenuto zingaro camminava avanti e indietro nella cella in febbrile attesa come un lupo in gabbia mentre i suoi compagni di detenzione un rapinatore slavo uno spacciatore indiano e un italiano che aveva tentato di riconquistare la moglie a suon di botte lo fissavano con muta invidia una guardia carceraria lo fece uscire lo condusse lungo il corridoio della prigione fino all'ufficio in cui avrebbero sbrigato le formalità per la sua scarcerazione all'interno di quella stanza si trovavano due scrivanie su ognuna delle quali sedeva un ufficiale carcerario uno dei due fece cenno al detenuto di avvicinarsi l'altro continuò a sbrigare le proprie pratiche con laboriosa lentezza i documenti che ufficializzavano il rilascio del detenuto erano già pronti dopo avergli fatto mettere qualche firma che era poco più di uno scarabocchio infantile l'ufficiare carcerario gli riconsegnò i suoi effetti personali hai un posto dove andare gli domandò poi si signore rispose lo zingaro con tono rispettoso era un uomo sui 50 anni basso ma largo di spalle e di torace di carnagione olivastra con i capelli neri unti che gli scendevano al lato della faccia e gli occhi di un verde glauco come quello del cielo a volte quando si specchia in un piccolo lago di montagna dalla mia famiglia disse lo zingaro l'ufficiare carcerario un uomo paffuto dall'aria rassegnata pronunciò le parole per lo più inutili con cui congedava ogni detenuto al momento del rilascio fa che non debba più rivederti qui dentro se mai una volta aveva ingenuamente creduto nella capacità riabilitativa della detenzione l'ufficiale non lo ricordava neppure sì signore rispose il detenuto zingaro in procinto di scarcerazione piegando anche la testa in avanti in una specie di servile inchino l'ufficiale lo liquidò col cenno di una mano vai vai ti accompagneranno fuori il detenuto ormai libero obbedì il problema è che poi se ne scordano di com'è fatta la galera disse l'ufficiale carcerario al suo collega quando il detenuto si fu levato di torno sai che si dovrebbe fare con individui come quello il suo collega era un uomo calvo e baffuto con la testa un po' allungata tipo uovo anche la sua di espressione avrebbe potuto essere definita rassegnata l'espressione di un uomo la cui vita era stata costretta in un lavoro che non aveva nulla di gratificante e tanto meno lo stipendio ammazzarli disse senza sollevare il naso dalle proprie carte ammazzarli no continua il primo ma dopo averli tirati fuori di galera dovrebbero farceli tornare almeno per tre giorni al mese se no finisce che se ne dimenticano di come si sta qui dentro e magari si ficcano in testa che se stanno abbastanza attenti non li becchiamo più secondo me si fa prima ad ammazzarli riba dell'altro con spietata praticità il marito di mia sorella non ha mai fatto male a nessuno e ha un tumore che non si sa se arriverà al prossimo anno si strinse nelle spalle insegno di non curanza tutti muoiono che importa se persone simili muoiono prima risparmieremmo soldi che si potrebbero spendere in sanità si rimise al lavoro sulle sue carte sono sicuro che uno come quello ne ha fatti tanti altri di crimini e non pagherà mai per quelli a meno che non esista l'inferno e aveva ragione nel frattempo il detenuto zingaro era uscito dall'edificio in cui era stato tenuto imprigionato e si godeva il pensiero del suo ritorno a casa del cibo del vino e di tutto il resto nell'appartamento che sua moglie si era procurata mentre lui marciva in gabbia con tanti ringraziamenti allo stato italiano una moglie obbediente dei figli forti e delle belle figlie era questa la vera ricchezza che un uomo poteva possedere quando nina rientrò in casa si accorse subito che qualcosa non andava c'era un'atmosfera un odore differenti il cuore iniziò a batterle forte in petto nel momento in cui vide suo padre seduto al tavolo della cucina la sua mente le sembrò rigredire ai ricordi indelebili di anni prima i capelli erano più lunghi ed era imbolsito ma era sempre lui sempre con quel suo mezzo sorriso spaventoso in viso era lì con un gomito sul tavolo vicino a una bottiglia di vino quasi vuota e a un piatto di zuppa che sorbiva con rumori disgustosi le gambe piantate a terra larghe come se volesse occupare più spazio possibile ruotò la testa e il busto verso di lei le labbra unte di zuppa luccicavano si appoggiò con un gomito sullo schienale della sedia con quella stessa mano reggeva un bicchiere di quel vino rosso come il sangue ciao nina le disse mentre lei lo fissava confusa non stava dormendo era come se un incubo troppo a lungo scacciato avesse valicato la soia della realtà per venire a farle visita cinque anni passano in fretta dopo che sono passati vero disse suo padre e si fece indietro con la sedia per farle spazio e si batte una mano su una coscia in un gesto che già da quando era piccola conosceva fin troppo bene suo padre avrebbe dovuto farsi sette anni invece ne aveva fatti poco più di quattro per rapina e lesione la verità è che sarebbe dovuto andare e marcire in galera per un reato molto più grave e rimanerci molto più a lungo tanto quanto era il tempo di una giovanissima vita rovinata ho saputo che ti diverti con un ragazzino negro ma di questo parliamo dopo le disse la sua voce era come quella di un rospo che le parlava dalla profondità di una grotta su vieni a farmi vedere come sei contenta che il tuo papà è tornato a casa sul suo viso era affiorata un'espressione beota bavosa e raccapricciante da orco la sua puzza impregnava la stanza Nina avrebbe voluto girarsi e scappare urlare con tutto il fiato che aveva ma non ci riuscì la fragilità la debolezza che tanto aveva disprezzato era ancora lì era parte di lei era come tornata bambina quello era suo padre e lei che era sua figlia io obbedì in silenzio quella notte anche se non disse loro che stava per andarsene Nina passò a salutarli scavalcò il divisorio fra i balconi dei loro appartamenti svegliò Kobe e Tahir e chiese loro di non fare assolutamente rumore perché se suo padre avesse scoperto che era lì le avrebbe fatti tutti a pezzi a partire da lei cucinarono e parlarono a lungo il tutto a voce bassa Nina sorrise e scherzò tenne per sé il suo tormento e la sua decisione che ne dite di dormire un po' disse infine la ragazza mi aspetta una giornata davvero faticosa si infilò a letto con Tahir chiese di abbracciarla e lui lo fece perdendosi nell'odore buono dei suoi capelli e della sua pelle non potendo minimamente sospettare che cosa le era successo in quella brutta giornata d'autunno ma Nina non voleva certo piangersi addosso non più piangersi addosso non serviva a niente l'idea di andarsene la faceva sentire perduta e disorientata ma questo non era importante perché qualsiasi direzione avesse preso sarebbe stata meglio che rimanere lì in valia di suo padre il giorno dopo quando Tahir e Kobe si svegliarono Nina se n'era già andata naturalmente sul momento non sospettarono affatto che quella notte passata insieme voleva essere un addio Nina non aveva detto nulla riguardo al ritorno di suo padre ma appena Tahir lo seppe capì che era stata colpa sua se Nina se n'era andata preso da una furia incontenibile corse all'appartamento degli zingari e cominciò a tirare calci e pugni alla porta dimenticandosi che era poco più di un ragazzino il padre di Nina uscì dall'appartamento come una furia e lo colpì con un pugno dritto sul naso Tahir si ritrovò a terra con la vista appannata e un flusso di sangue che gli scolava dal naso come un rubinetto rotto il padre di Nina continuò a colpirlo prendendolo a calci cercando il volto e lo stomaco mentre Tahir tentava di ripararsi alternativamente con braccia e gambe annaspando nell'aria come se stesse affogando in essa indietreggio fino a trovare il muro alle sue spalle Kobe urlava e chiedeva aiuto corse contro il padre di Nina ma quello lo allontanò con una manata poi si trasse di tasca un coltello e si chinò su Tahir io ti taglio la gola negretto i suoi occhi erano illuminati di odio fu il compagno di Raja a salvare Tahir a chi appò il padre di Nina per il braccio con cui teneva il coltello e per il collo e lo scaraventò contro il muro dall'altra parte del corridoio nonostante la botta lo zingaro non aveva lasciato il coltello e ora lo rivolgeva verso il compagno di Raja ce n'è anche per te pezzo di merda disse il compagno di Raja non rispose nulla si limitò a estrarre il macete che aveva incastrato alla cinta dietro la schiena lo zingaro si sentì subito ricondotto a più miti consigli non mise via il coltello ma sollevò le mani in un gesto di non belligeranza intervenne Raja se fai del male a quella ragazzo tutta la mafia nigeriana ti darà la caccia bleffò lo zingaro sorrise se viene di nuovo a disturbarmi io e i miei fratelli vi faremo tutti a pezzi e le sue parole sembrarono decisamente molto più sincere e pericolose di quelle di Raja la madre di Nina li osservava dalla soglia della porta con rabbia silenziosa Tair mentre suo fratello lo aiutava ad alzarsi le rivolse uno sguardo di rancore e accusa perché sapeva che era stata una cattiva mamma per Nina qualche giorno dopo iniziò a girare la notizia che Nina era stata presa dalla polizia per furto e che sarebbe finita in una casa famiglia a Tair parve impossibile perché Nina era troppo accorta per fare errori simili a meno che certo non avesse semplicemente voluto farsi arrestare Coby sperò che Nina potesse realizzare il suo desiderio di avere una vita normale come quella delle persone che vivono in questo paese come quella che lui stesso sperava di poter vivere un giorno e per cui lottava per sé e per suo fratello Tair gettato sul suo materasso non sperò in nulla e pianse tutte le sue lacrime due settimane dopo bussò alla porta di Raja del suo compagno grazie di avermi aiutato disse Tair a quest'ultimo il compagno di Raja minimizzò la cosa con un gesto di non curanza se non ci si aiuta tra noi neri disse e rise sono sicuro che anche tu avresti fatto la stessa cosa se fossi stato io nei guai se tu fossi stato grande e grosso e armato come me ciò detto fece per richiudere la porta ma Tair non era lì solo per ringraziarlo finalmente ti sei deciso a diventare un uomo esclamò il compagno di Raja ridendo e assestò sulle spalle di Tair una pacca di cameratesca complicità maschile le spalle del ragazzo si erano irrobustite a forza di sollevare cassette cariche di frutta ciò nonostante quella manata a momenti lo piegò in due per quanto Tair avesse voglia di crescere era ancora poco più di un ragazzino ma prima devi pagare sottolineò l'uomo tendendo la grossa mano verso il suo giovane cliente Tair si trasse delle banconote di tasca e gliele porse suscitando nell'indignazione è troppo poco esclamò il compagno di Raja questo è un insulto alla mia donna è tutto quello che ho ammise candidamente Tair e l'uomo di fronte a lui si piegò sulla schiena a fissarlo intensamente in viso come se così facendo potesse stabilire la veridicità delle sue parole per questa volta può bastare concesse e gli fece strada nell'appartamento una tendina di perline conduceva nella stanza in cui Raja sbrigava sia le sue faccende amorose che quelle lavorative la stanza era bianca priva di ogni cosa se non una lampada da terra con la plafoniera rossa una sedia dove i clienti avrebbero potuto appoggiare i propri abiti e un letto a due piazze dalle coperte rosa di qualche materiale sintetico su una parete una foto incorniciata ritraeva il sensuale corpo di una donna di colore nuda in una posizione che definire provocante era diminutivo probabilmente era Raja la modella di quella foto tuttavia era impossibile stabilirlo con certezza visto che quella particolare posa escludeva il viso dall'inquadratura per Tahir la mancanza di Nina era una morsa feroce allo stomaco il dispiacere del suo allontanamento si era sedimentato in lui alimentandosi di incomprensione e rancore per quale motivo Nina se n'era andata in quel modo senza dirgli nulla senza fare in modo che potesse rivederla o almeno contattarla Tahir si sentiva tradito e abbandonato ed era per questo che era lì a chiudere la ferita del suo cuore pagando per ottenere una prestazione sessuale per sostituire il suo cuore con un sasso come gli aveva detto Gennaro così da non dover mai più provare un simile senso di vuoto e smarrimento da quando Nina se n'era andata la vita per lui era diventata un tormento continuo un continuo ricordare e rimpiangere e non capire una tendina di perline fissata allo stipide celava la vista in quella stanza anche quando la porta era aperta il tintinio delle perline annunciò l'arrivo di Raja da come lo sguardo della donna si era riempito di stupore Tahir comprese che non era stata avvertita che era lui il cliente che aveva pagato per godere del suo corpo e delle sue particolari attenzioni Raja chiuse la porta non si erano solo riempiti di stupore i suoi occhi si erano anche velati di una profonda tristezza Tahir si sarebbe aspettato di vedervi biasimo e condanna questo sì ma non tutto quel profondo dispiacere gli occhi di Raja erano gli occhi di una madre che temeva per il proprio figlio ma lui non era suo figlio Tahir non voleva che Raja fosse una madre per lui se lo voleva Kobe gli stava bene ma non lui non lo voleva aveva già una madre e questa giaceva da qualche parte in fondo al mare o chissà dove di sicuro non in paradiso il paradiso di certo non esisteva era impossibile che esistessero esseri onnipotenti e buoni in un mondo in cui navi di disperati si capovolgevano perché questi erano tanto stupidi da spostarsi tutti sul lato vuoi che mi spogli disse Raja Tahir a noi in modo assente poi sentì la propria voce dire di sì voleva che si spogliasse i loro occhi nerissimi luccicanti come gocce di petrolio si fissavano gli uni negli altri in un intrico di sentimenti contrastanti Raja gli sorrise con tenerezza e si fece scivolare lungo una spalla alla bretella del suo abito corto e trasparente fino a scoprire il seno fin quasi al capezzolo lentamente per dare tempo a Tahir di continuare lungo la sua decisione oppure di ripensarci Tahir si sentì sopraffatto da un senso di errore di ingiustizia quello che stava imponendo a Raja era sbagliato voglio solo che mi abbracci le disse infine Raja si chinò a baciarlo delicatamente sulla fronte un bacio privo di ogni malizia posso vestirmi gli domandò e Tahir a noi Raja scomparve dalla stanza e ritornò poco dopo indossando una tuta di colore verde si stesero fianco a fianco sul letto e lei lo abbracciò mi manca tanto le confessò Tahir nello svolgimento della sua particolare professione Raja aveva visto molti uomini disperarsi per la donna che per un motivo per un altro questi avevano perso ma non aveva mai trovato nulla da dire o da fare che potesse essere realmente di conforto le parole non colmano il vuoto della solitudine e il sesso non è amore il sesso può far dimenticare l'amore questo sì può anche rimpiazzarlo in un certo qual modo ma non può in nessun modo ridartelo al contrario può spingerti a non provarlo e a non cercarlo mai più a me puoi dire tutto quello che vuoi in qualsiasi momento se offrirà Raja ma Tahir non aveva nulla da dirle Tahir avrebbe solo voluto scoppiare in un pianto liberatorio un pianto per i suoi genitori per il nonno per Nina e per se stesso i ricordi continuavano a balenargli nella mente feroci e spietati e più erano dolci più facevano male ma non riuscì a piangere qualcosa si era inaridito dentro di lui forse come aveva auspicato il suo cuore iniziava davvero a diventare un po' di pietra e ne fu felice a piangere a piangere un po' di a piangere un po' di Grazie.